Salve a tutti amici di TechDifferent, prova di registrazione video in qualità Full HD 1080p, in notturno ovviamente, con HTC One Mini 2. Direi che la qualità comunque non è assolutamente malvagia. Facciamo uno zoom al massimo. Ovviamente sgrana abbastanza, comunque non sembra malissimo. Vediamo un passaggio di luminosità. E direi che tutto sommato ci siamo. Buona la qualità, buona la registrazione e direi che per questa prova è tutto. Grazie per l'attenzione e alla prossima da TechDifferent. Ciao!